non mangiare c'è un buchi di roba dopo qui è domenica domani a modena venerdì a massa lombarda sabato a milano e domenica qui devi mandare whatsapp al numero te lo do ti do il mio si manda un whatsapp qui di voglio i calendari arriva tutto quali sono i nostri? tolgo questo che ha la riga vero? questo di solito ha la riga questo è da togliere controlla che sia si togliere dovresti fare la riga vabbè due dei fatti no ma non mutarli, tienli lì magari mi servono, forse non credo però ci sono altra cosa che non ti parte no? no ok per saperlo non vi ci sono più non vi ci sono fatti non vi ci sono più Grazie.